La riserva del Borsacchio è al centro di una battaglia politica e civile. Diverse azioni sono state intraprese per contrastare l'emendamento che ha ridotto drasticamente l'area protetta, passata da 1100 a 24 ettari. Tra queste una manifestazione pacifica in piazza, una raccolta firme di 11.000 persone, una proposta di legge regionale dell'opposizione e una richiesta di documentazione da parte del WWF. Questi temi sono stati affrontati anche nel corso del Consiglio Comunale straordinario durato fino a tardasera, al quale hanno partecipato numerosi esponenti politici, ambientalisti, agricoltori e residenti. Tra i presenti anche due dei cinque consiglieri regionali che hanno sottoscritto l'emendamento contestato, Emiliano Di Matteo e Mauro Febbo. La cosa più importante di ieri è stata la delibera proposta da questa amministrazione con l'appoggio poi di alcuni consiglieri di minoranza del dire no alla riperimetrazione del Borsacchio e quindi della riserva del Borsacchio. Un atto importantissimo perché quando il 29 dicembre abbiamo saputo di questa sconcertante notizia ci siamo attivati e come avevamo detto per vie ufficiali, perché la politica agisce per vie ufficiali, creando sinergie, mettendo a terra quelli che sono i dati. E nella mia delibera di spiegazione, di ripercorrere appunto come dicevo la storia, ho potuto mettere in evidenza quanto si è fatto e anche i limiti della politica negli anni, ma anche quanto abbiamo fatto negli ultimi anni per far sì che dal 2021 adozione del panne, quindi lo strumento fondamentale, e ho ricordato anche gli ambientalisti presenti che nel 2021 non volevano quel panne, come a volte bisogna fidarsi della politica che invece ha permesso quell'adozione che oggi ci permette di lottare insieme. Prima dell'inizio della seduta si sono radunati in piazza circa 200 persone tra cittadini e amministratori ambientalisti che hanno sfilato con ramoscelli d'ulivo in mano e scandendo sia la riserva del Borsacchio. Inoltre una bambina Cecilia ha consegnato al sindaco Mario Nunes la petizione avviata dalle associazioni ambientaliste. Ho ricevuto con gran piacere, con grande gioia e con grande onore quelle 11.000 firme da Cecilia che è stata davvero un segnale del futuro per il quale noi dobbiamo batterci tutti insieme. Per il sindaco Nunes l'emendamento passato in consiglio regionale presenta diversi elementi di incostituzionalità. Io credo che l'incostituzionalità, i passaggi mancanti ma anche la tempestività che avremo nell'approvare le osservazioni di trasmetterle poi in regione, farà sì che Regione Abruzzo, e lo ha detto anche Febbo in un suo intervento, diciamo probabilmente avrà questa direzione. Quindi sì al panne e no alla riperimetrazione? Io dico sì al panne che come strumento normativo permetterà finalmente di dare uno sviluppo turistico agricolo di qualità salvaguardando l'ambiente e dimostrando lo seto che valore ha.